Gianni Colacione per LibriTV, oggi 1 ottobre 2016, nello studio di Mauro Mellini. Ormai è prossimo quasi l'appuntamento referendario sulla riforma costituzionale Boschi-Renzi-Boschi-Boschi-Renzi. E Mauro Mellini è molto attivo con i suoi articoli, ricordiamolo sul blog Giustizia Giusta, animato e curato, oltre da Mauro Mellini, ma dagli amici Alessio Di Carlo e Andrea Granata. Su quel punto potete leggere gli articoli di Mauro Mellini, Giustizia Giusta. Ci sono vari articoli che parlano di questo appuntamento, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni. Mauro è molto critico, ma ovviamente intensificherà la sua verve in questo periodo. Ma se riusciamo, facciamo anche magari riuscire a fare qualche domanda anche su altri avvenimenti importanti, per esempio un commento al nuovo corso, tra virgolette, dei 5 stelle in Campidoglio, con la sindaca, come si dice appunto adesso, Raggi, e un po' di problemi che sta cercando di affrontare. Ascoltiamo Mauro Mellini. Finalmente abbiamo la data del voto per il referendum sulla riforma costituzionale, tirata per le lunghe, e si parlava, dopo l'approvazione da parte del Parlamento delle norme della cosiddetta riforma, del referendum di ottobre, poi diventerò il referendum d'autunno, adesso siamo quasi al referendum d'inverno, referendum già pre-natalizio. Si è fatto di tutto per tirare per le lunghe la questione, la Corte di Cassazione, a mio avviso, non sto qui a tecare perché ha sbagliato, che doveva considerare il suo termine, quello nascente dalla prima presenza di una richiesta valida, non è che se ne fanno 12 di richieste, poi se fanno 12 referendum, referendum è uno, una volta fatta una richiesta valida per il referendum, le altre se le possono fare per quello che vogliono, ma insomma è lì che scatta. Non è stato così, rispettato l'ultimo momento siamo arrivati in estremis alla indicazione della data. Il referendum è stato caratterizzato, la campagna, il dibattito del referendum è stato caratterizzato da due fasi finora, e adesso entreremo una terza, una quarta, una quinta. La prima frase è quella in cui Renzi ha posto una sorta di voto di seducia. Guardate che se non votate sì, io me ne vado. Quando ha avuto un coro di finalmente, e ora vattene, anche francamente da parte del suo stesso partito, ha capito e poi ha intervenuto il voto alla relazione amministrativa con una pesante penalizzazione del partito denocratico, allora ha cominciato a dire che gli altri volevano personalizzare il referendum e che bisognava impedire che gli altri lo personalizzassero. Poi alla fine ha dovuto ammettere di averlo personalizzato lui, di averlo sbagliato, cosa strana perché Renzi non ammette mai di averlo sbagliato. Questo va detto anche perché una personalizzazione in realtà c'era, c'è e rimane. La personalizzazione è la personalizzazione della Costituzione. Se andiamo a vedere tutte le discussioni fatte dalla parte del Sì, diciamo così, dalla parte di Renzi, e andiamo a vedere la sostanza bruttissima della riforma, ci accorgiamo che è stata fatta, una volta si parlava di leggi ad personam per tutte le leggi che comportassero garanzie nel processo penale, ad personam di Berlusconi. Questa è una riforma fatta ad personam per l'ipotesi del Partito della Nazione per Renzi. Ora, basta questo secondo me a dire che è una riforma da buttare. Perché? Perché le riforme della Costituzione, io non sono di quelli che la Costituzione è intangibile, è il santo clavo, no? La Costituzione è frutto di una produzione di diritto solo ordinato, ma insomma, però è fatta per durare, è la regola del gioco e non si può cambiare in relazione a come sono andate alla distribuzione delle carte. Mentre questo è il discorso che si fa oggi in relazione, mai 5 stelle, se no poi 5 stelle, sempre tirano in ballo questi 5 stelle, poi bisognerebbe andare a vedere chi è che ha creato questa antipolitica. Mi riconosco anche delle responsabilità per la mia ormai quasi prescritta storia della passenza al Partito Radicale che ha avuto la sua parte nella creazione di una mentalità dell'antipolitica. Ma vabbè, quello che è importante è che oggi si mischiano due cose che hanno un'origine comune. La legge elettorale, che è un schifo e che è un tentativo per eludere la dichiarazione in costituzionalità fatta dalla legge della Corte Costituzionale della legge con cui è stato eletto questo Parlamento. E quindi la prima considerazione, un Parlamento eletto con un sistema incostituzionale e che non comporta l'incostituzionalità del Parlamento. Stavo già quasi insorgendo. No, che sarebbe grave questa considerazione. Questa è una cosa che dicono i grillini. lo dicono i grillini. Ma chiunque lo dice... L'ho sentito dire anche da D'Alema, però. L'ho sentito dire anche da D'Alema. Insomma, il concetto poi potrebbe anche essere quello. Ma insomma, un Parlamento che è stato eletto dovrebbe avere, una volta intervenuta la dichiarazione in costituzionalità, questo Parlamento dovrebbe fare una sola cosa. raffazzonare una nuova legge elettorale applicando puramente e semplicemente i rilievi della Corte, non pretendo non lo farne un altro, e arrivarsi allo scioglimento e a nuove elezioni. Perché questo era la normalità, la logica. ma naturalmente nessuno si dimette, nessuno riconosce. E si è pensato subito di accettare con indifferenza questo fatto di estrema qualità. Ma questa riforma della Costituzione è fatta tutta in base a delle stupidaggini. Ecco, io ho scritto, pensiamo con l'amico Fleres, questo libretto che sta uscendo in questi giorni, l'otto, verso l'otto, l'otto, l'otto. Lo stupidario del sì, le ragioni del no, di Bonferraro, editore. Io ho scritto Lo stupidario. Mauro Mellini e Salvo Fleres. Perfetto. Con Bonferraro, editore. E perché Lo stupidario? Perché in realtà si sono dite più stupidaggini. Io dico, ma tu che dici stupidi agli avversari, no? Le maggiori stupidaggini sono quelli che si dicono non essendo stupidi, ma essendo o volendo fare i furbi, no? Comunque sono state dette grosse stupidaggini. Io non voglio qui riassumere il contenuto del suo libro. Compratelo. Diffondetelo, discutetelo e poi si vedrà quale contributo potrà dare al chiarimento. Quello che voglio dire è che noi oggi siamo in condizioni e siamo nell'obbligo di discutere il contenuto della riforma. Le storie che si sono discusse prima di tutto. Ma poi che succede? Ma forse, ma poi magari se ne va Renzi. Come facciamo senza Renzi? Io ho delle idee un po' diverse. Insomma, non mi strapperei i capelli di quei pochi che mi sono rimasti se Renzi se ne va. Ma il problema non è questo. Si vota sulla base del fatto se questa Costituzione e se mi dicono che succede io dico che succede che cosa? Certo, che succede con la riforma? Che succede con il no? Succede quello che è successo fino adesso. Certo, non è un è una Costituzione fatta con preoccupazioni che forse oggi non ci sono più e senza tener conto di preoccupazioni che oggi ci sono. Una Costituzione post-traumatica? Ma io in particolare vorrei ricordare io mi sono lavorato nel 1949 quando si discuteva la Costituzione frequentavo i corsi tra l'altro di diritto costituzionale e avevo il professore Gaspar Ambrosini siciliano di Favara democristiano che era Costituente e che non è un corpo insegnante allora non serio all'Università di Roma non era non era mortati diciamo per il diritto costituzionale ma che molto opportunamente ci riferiva tra l'altro di quello che era il lavoro della commissione del 75 quella che preparò il testo poi che ho stato all'aula e mi ricordo una bellissima lezione sul Senato lo facciamo non lo facciamo lo dobbiamo fare e in ostilità al Senato perché il Senato ricordava il Senato Leggio e poi allora il Senato aveva ragione e le varie discussioni ma lui dice di fronte all'obiezione che il Senato ci richiama al Senato Leggio e no signore il Senato Leggio erano senatori nominati dal re questo è un Senato eletto dal popolo ora oggi vorremmo fare un Senato con il sostragio universale che era una cosa nuova ma il nuovo Senato non solo non è eletto dal popolo ma non si sa manco come si legge perché c'è un buco clamoroso e poi venuta fuori la storia di cameralismo perfetto e qualcuno ha pensato che bisogna farlo imperfetto quindi bastava fare delle imperfezioni nel testo della legge che era fatto come l'espressione non è forse felice bicameralismo imperfetto significano diverse funzioni ma così come è combinato e certo adesso non possiamo fare una lezione e un'analisi ma tenete presente che c'è un articolo fondamentale nella riforma è la riforma dell'articolo 70 della costituzione l'articolo 70 è l'articolo come si fanno le leggi oggi si dice la legge era approvata dalla Camera e dal Senato quando i due rami del Parlamento abbiano approvato nello stesso testo la legge era programmata sono nove parole oggi l'articolo 70 476 parole qualcuno si è fatto carico di raccontare 476 di fronte a un procedimento legislativo se ne sono creati 10 diversi che succede se il Senato o se il Senato richiede quindi sono 10 giorni con i senatori sindaci della città i quali di corsa entro 10 giorni dovrebbero andare a fare la richiesta di riesame eccetera poi entro altri 15 giorni insomma è chiaramente una un senato che poteva abolire benissimo no non lo lasciamo qui non si spreca niente poi a Palazzo di Adama poi c'è il personale che faceva il ragionamento all'italiano con il nuovo sistema questo è il punto centrale che nessuno ha voluto affrontare con 10 procedimenti legislativi diversi per leggi e categorie di leggi che non sono chiaramente indicate noi abbiamo assicurato un consensioso di legittimità costituzionale formale cioè questa legge è stata approvata in modo diverso da quello che prevede la Costituzione Boschi Renzi no no Corte Costituzionale noi avremmo oggi alla Corte Costituzionale si va per questioni pochissimi casi di legittimità costituzionale formale caso di tele che al governo eccetera un perpetuo ricorso alla Corte Costituzionale il che ridicolizza e allora se uso la parola stupidità qualcuno mi riproverà e tu dici stupidità stupidario stupidario sono le stupidità non gli stupidi perché probabilmente queste cose le capivano però non le rilasciano è chiaro che l'affermazione che è alla base di tutto semplifichiamo il procedimento legislativo è una solenne bugia è una truffa fatta al popolo italiano di un'altra dicendo che si semplifica qui si complica ma c'è un se no un ulteriore fare sì che ogni legge e quindi ogni questione che sorge in forza di quella legge comporti una discussione sul fatto che quella legge è stata approvata bene o male con il procedimento numero uno mentre doveva essere fatta con quello numero sette con dieci ce n'è in sorrabbondanza e noi trasferiamo il potere reale alla giustizione i giudici con la sospensione dei procedimenti per la questione di costituzionalità che decuplicheranno e poi la corte costituzionale che è un organo costituzionale ma di carattere giurisdizionale noi avremo il trasferimento dal Parlamento eletto dal popolo ad organi eletti da nessuno questa è una delle questioni epocali il fenomeno del passaggio ad altre sedi è quello che è stato evitato dalla grande riforma illuminista dalla rivoluzione francese dai codici dalla codificazione perché prima la storia qua non sono molto forti non credo che la Boschi abbia fatto credo gli studi storici poi i studi bisogna farli bisogna anche saperli utilizzare i parlamenti francesi dell'epoca dell'anzio regime Luigi 15 Luigi 16 non erano organi legislativi erano organi giudiziari però dovevano dirimere la questione se una questione il re lo doveva fare con la reggia patente oppure con il motoproprio oppure con altre tante se c'era una precedente attribuzione di esenzione fatta a determinati nobili e quindi se venivano lesi i diritti di nobiltà e i diritti feudali e cose di questo genere e i parlamenti hanno paralizzato la vita politica e finanziaria dello Stato creando quella forma di banca rossa da cui nato poi sull'occasione della scintilla della rivoluzione sanitaria questo è un fatto in cui sto pensando da alcuni giorni e che evidentemente non è di questo che si può parlare con la Boschia ma comunque ti devo dire che non avevo pensato a questa cosa che è un grande Mauro Mellini ma è un grande Mauro Mellini è una cosa abbastanza semplice piuttosto che ci sono molti piccoli non è un grande no vabbè questa è una cosa che è un pericolo è molti piccoli ora questa quindi c'è direi che a parte la complicazione a parte il tempo che si perde a parte il fatto che altro tempo si dovrebbe perdere perché vedete che io ho fatto deputato per quattro legislature ho fatto un sacco di fesserie di alcune mi rendo conto non è che mi devo pensire perché sono andato all'inferno perché non ci credo all'inferno e al paradiso vado all'altro mondo e però devo dire che non sono mai venuto meno a un dovere del deputato che era quello di impiegare quelle che erano le mie capacità professionali i deputati dovrebbero portare ognuno nella sede della discussione massima del paese proprio bagaglio di conoscenze di esperienze di scienza chi ce l'ha e se non di scienza di esperienza e da avvocato forse non ultimo e quando c'era un testo di legge molto stesso io prendevo il testo di legge e in una discussione diceva ma guarda qui c'è scritto così e allora che succede se apriti cielo questi sono cavigli avvocateschi non ricordo la parte del partito che poi è diventato di Renzi che era un partito comunista si chiamava allora ma solo quelli siamo cristiani un fastidio da vedere e dico perché secondo voi non è importante sapere che succede le leggi si fanno ma non hai capito che questo deve essere un segnale e allora ha fatto un semaforo io dicevo cioè fare delle leggi che tanto devono essere un segnale ha portato al disastro e alla bancarotta del nostro sistema giuridico e questa riforma cosiddetta riforma è il distillato di questa bancarotta c'è la bancarotta della banca etruria guarda caso c'è la bancarotta del nostro sistema giudiziario lo abbiamo visto e il sistema giuridico sono avvenute in questo periodo delle cose gravi la Cassazione che afferma il principio che c'è l'abuso del diritto io non sto a fare una discussione su questo perché la farei volentieri ma non è questa la sede ma è una cosa rivoluzionaria è una cosa che ci riporta indietro di secoli l'abuso del diritto l'abuso del diritto non è possibile il diritto è il diritto se c'è il diritto non ce può essere l'abuso ma l'abuso del diritto significa che è sconvolto e sopraffatto l'applicazione delle norme ecco quindi che il gioco di questa Costituzione è vero è più ampio ancora del problema dell'approvazione della riforma ma perché è messa in gioco un sistema di convivenza il sistema giuridico del paese inteso come sistema nervoso è avvilito sbeffeggiato da queste stupidaggine e allora usare la parola stupidario e raccogliere alcune considerazioni alcune sono particolarmente facili e maliziose vogliamo dire quando la Boschi dice che per combattere il terrorismo bisogna approvare la riforma della Costituzione beh insomma dice una no immaginate che l'abbia detto si se vi va se no prendete atto che sono stato particolarmente delicato non dirlo ma insomma cose di questo genere oppure ecco credo che la cosa importante è questa finirla di parlare d'altro parliamo di quello che c'è scritto nella riforma parliamo delle 476 parole che sostituiscono le 9 parole dell'articolo 70 e vediamo se se uno le legge dice ma questo sembra il regolamento del gioco dell'oca no non è credo che finora nei sondaggi il no è in vantaggio io non mi faccio illusioni useranno di tutto e di più ho un grande paura per il voto dell'italiano all'estero tra l'altro regolato da una legge incredibilmente sembra fatta da un'associazione di 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 malfattori che intendono barare nella legge perché è una legge se un sindacato dei postini votano loro al loro posto perché nessuno lo controlla si controlla l'arrivo del certificato elettorale della scheda elettorale non si controlla la spedizione e chi vota ma viene controllato assolutamente è una delle cose pace all'anima di Mirko Tremaglia Tremaglia ma insomma è una delle cazzate scusate l'espressione fatte da un governo per un'occasione sì ma sulla quale se non erano tutti d'accordo che bello votano l'italiano dell'estero una legge e oggi le ambasciate consulati italiani sono impegnati a fare la battaglia per il sì perché questa è una certa disinfoltura pare che sia in atto ce ne stavano tutti i colori c'era la scelta di far parlare i meno dotati del no con i più dotati di parlantina c'è un'espressione che mi pare che sia un po' passata di moda la parlantina parlantina che ha qualcosa di mezzo quello di Renzi Renzi non è un oratore non è un ragionatore ma comunque c'è una buona parlantina però con la parlantina rischiamo ad allontanarci dai dati io ho fatto uno sforzo comune notevole perché sto dedicando questi ultimi periodi la mia vita proprio questa battaglia finché dura e lo sento come un dovere non ho visto molto comunque sia voglio dire il referendum è a novembre insomma ti auguriamo altri decenni di vita insomma sono gli ultimi periodi della vita non vorrei non vorrei negli ultimi anni della mia vita vedere le conseguenze per esempio del sì se dovesse prevalere preferirei andare all'altro mondo prima francamente perché io ho aperto gli occhi al mondo realmente al momento della nascita al momento dell'uso della ragione nelle situazioni più drammatiche e brutte la guerra il fascismo l'Italia con gli stivali la retorica bolsa e cretina del fascismo di Mussolini eccetera tragedia l'occupazione tutta cosa che non si cancellano dalla memoria è bene anche che non si cancellino ma insomma non credo che domani questa costituzione metta gli stivali a Renzi ma ci sono vari modi ci sono varie forme di autoritarismo e l'autoritarismo senza autorità è ancora peggio poi questo beh allora parliamo di scenari alternativi così proviamo a guadare questa cosa no no aspetta aspetta sto passando a un altro argomento in modo soft allora prima hai parlato di crisi del sistema giuridico avevo accennato qui in apertura che proviamo anche a fare un commento su quello che accade a Roma allora io ti chiedo le performance di questa nuova sindaca a Roma si chiama sindaco ormai Regina Raggi non entusiasmanti sono secondo te un po' figli anche di questa crisi generale del sistema giuridico italiano sono figli innanzitutto della quando l'antipolitica si mette a fare la politica poi si trova in una situazione tragica io ho scritto un libro gli arrabbiati d'Italia in cui ho cercato di analizzare all'inizio questo fenomeno del grillismo e credo aver fatto alcune previsioni la cosa che mi preoccupa di più è il fatto che altre forze politiche hanno cercato di tagliare l'erba sui piedi a Grillo e ai suoi e fare loro l'antipolitica in questa Costituzione quando si avviene fuori Renzi che dice noi risparmiamo perché i senatori sono già pagati che è una delle cose più stupide dello stupidario perché poi voglio vedere i sindaci che lasciano perdere tutto corrono a Roma un giorno sì un giorno no per votare a Grillo e le mogli chiedono subito il divorzio ma è folle e quindi c'è un qualche cosa che è radicato e viene dietro però credo anche che con la Raggi si stia realizzando quella considerazione che ho fatto altre volte cioè che dando il potere al partito dei magistrati che oggi ha il potere di destituzione di ministri presidenze del consiglio sindaci e compagnie allora su questo avrai letto sicuramente l'ultima dichiarazione di Davigo che ha detto che il ponte sullo stretto è una stupidaggine è un ponte dal nulla al nulla beh nulla lo sa lui ma insomma è chiaro questa gente che vuole impedire alla politica di fare la politica liberamente e loro vogliono fare la giurisdizione è un ammonimento provateci io vi arresto per abuso d'ufficio cosa di questo genere cioè oramai io qualcuno credo che dovrebbe ma non si pentono mai né io ci proverai gusto perché il pentimento con i pentiti no il pentimento serve serve a fare qualche cosa di diverso ma il pentimento agli uomini politici io mi devo pentire di molte cose della mia attività lo dico subito e sto cercando di non fare proclamazioni di andare con la cena in testa il giorno però di fare qualche cosa di diverso e di contrario da quelli che ritengono essere stati i miei errori che però vengono considerati come ultimi atti di una mia qualcuno dice che le ultime cose belle che ho fatto sono quegli errori non è così però noi dovremmo cominciare a sperare che da questo sforzo io spero molto in questo referendum che bene o male poi la ragione si faccia avanti e il grande ritorno alla ragione io ho sempre considerato come Sciascia Sciascia considerava il grande secolo del settecento il secolo dell'illuminismo del trionfo della ragione alla quale poi la storia la cosa l'idrologia la città fa molte cose che hanno offuscato questa e molta ragione ma oggi non c'è in molte cose molto semplicemente spero che nello sforzo nel contrasto emerga emerga anche questa certo ritorno alla ragione immaginare liquidare una riforma perché se ne riconosce l'irrazionalità sarebbe un grande fatto positivo ridiscutere dei principi fondamentali del funzionamento dello Stato del funzionamento della legislazione della produzione legislativa è sicuramente un fatto che potrebbe portare a un ritrovamento della razionalità voglio sperare questo ora tornando alla raggi e la raggi noi abbiamo la conseguenza di un sistema in cui amministrazioni governi eccetera cadono perché li fa cadere la magistratura e cadono c'era una barzelletta i due soldati sovietico americano che stavano e dice ma il soldato sovietico lo manda ma è vero che avete cambiato presidente dice sì è una nuova elezione e dice il poveretto che hanno fatto l'hanno ammazzato quello un parcheggio di un ammazzato dice una pupa di vetro l'hanno ammazzato cioè è un ragionamento che bisogna accoppare beh in Italia ci siamo tornati a questa situazione Berlusconi perché ha fatto il piazzo del Nazareno è stato affidato in prova a Renzi perché se no andava in galera quando si dice ma tu hai fatto queste cose è vero Berlusconi ha il torto di non denunziare oggi il fatto di questa estorsione con più nei suoi confronti e quando i 5 Stelle dicono no che la condanna quando uno è indagato deve dimettersi l'ultimo procuratore della Repubblica di Castrovilla di non so dove eccetera io sto sul capo c'è un amico da Roma che dice e lui fa un'intudazione d'abuso d'ufficio che è come siga di Vittorio Emanuele non si rega a nessuno anche perché lo hanno congegnato in maniera tale opportuna manipolazioni giurisprudenziali cercano di applicarlo in un caso in cui l'abuso non si dovrebbe manco lontanamente immaginare e se è questo bisogna dire che poi si diventa impresentabili sì poi c'è gli impresentabili altra cosa di questo genere nel sud d'Italia c'era c'era un proverbo che era storicamente sbagliato ma che è un concetto di re Gioacchino fissi la legge e fu impiso ora re Gioacchino è Gioacchino Muratti che in realtà non aveva fatto la legge per cui lui fu condannato quando sbarcò di nuovo ha fatto la legge contro il biglantaggio però era noto perché ha fatto le leggi feroci per cui si fucilava la gente e poi gli si domandava come si chiamavano e poi non fu impiccato ma fu fucilato però il concetto lo rendeva bene i 5 stelle fissi la legge e furono impisi no perché a un certo punto anche se non sono stati indagati qualcuno la paura è essere indagato se qualcuno lo fa cadere qui tutti ce l'hanno con i 5 stelle se vogliono far cadere l'amministrazione mi indagano e io devo passare guai magari mi arrestano per far cadere l'amministrazione quello che è successo con Berlusconi è grave giustamente lui ha votato la legge per cui poi dopo no non è perché ha votato la legge è perché il paese doveva riconoscere mentre bene i 5 stelle hanno approvato benissimo tutti in galera tutti quanti poi si sono accorti che si sono messi a fare politica e si trovano riprese certo oggi non lo dicono perché non lo possono dire ma io spero che dato che credo sempre nel trionfo della ragione che qualche cosa venga fuori due parole su De Luca le diciamo ma De Luca è una persona di grande insomma molto uno dei migliori uomini politici in circolazione certo non è un caso che oggi viene assolto fortunatamente la storia della impresentabilità quella persona particolarmente poco presentabile che era Rosi Bindi che ha fatto quella cazzata diceva tutti d'accordo è una cosa che nessuno ha detto tutti d'accordo mi viene in mente un'altra cosa il Consiglio Comunale di Roma ha fatto una delle peggiori cazzate scusate le espressioni che non ci sono equivalenti ha conferito all'unanimità cosa di cui non hanno parlato nessuno la cittadinanza onorare di Roma ad Antonino di Matteo il procuratore della Repubblica del processo Stato-mafia il cui lo Stato è imputato e ha venuto per la cosa dell'altro mondo di aver tentato di trattare con la mafia lo Stato il quale è la fonte del diritto e che non lo so io sarei stato contrario a trattare con la mafia ma se lo Stato vuole trattare con la mafia ha trattato con i terroristi tratta con la mafia con quella parte della mafia che si pente e finva il contimento gli consente di fare le peggiori mascalzonate continuare a fare gli chiede di pentirsi per poter avere informazioni informazioni è una forma di trattativa anche quella però di Matteo ha scoperto che c'è c'è questo kafkiano processo a Palermo in cui imputato chi è? è lo Stato ma infatti si chiama Stato mafia non è che si chiama Mori mafia non è che personalmente Mori dice ma questi mi fanno la pelle stiamoci d'accordo il ministro Mannino processato ministro come ministro come il vertice dello Stato l'hanno assolto perché per non aver commesso il fatto quindi hanno voluto fare le solite drittate per insomma non ci sono per il trattabile ecco queste cose non credo che siano particolezzi né deviazioni dal discorso che avevamo cominciato e dalla storia anche del referendum che investe sul piano della Costituzione noi stiamo a discutere di una riforma che è tipica espressione della crisi del diritto fatta da un alfabetico del diritto infatti la gente che non sa cos'è una Costituzione che la manipola come se fosse come dico fa pensare al regolamento del gioco dell'oca che non è capace di inquadrare le conseguenze che non sono il governo Renzi o non governo Renzi o chi va al posto di Renzi e che succede me ne frego io di questo quello che mi importa è che le conseguenze sono che si fa di fronte a un bailum istituzionale e costituzionale di tutto il sistema anche giudiziario italiano come conseguenza e al trasferimento reale di poteri a organi giudizionali sia pure la Corte Costituzionale che però non è l'espressione della solidarietà popolare a parte potrei anche formulare qualche giudizio in ordine ai livelli dei giudici costituzionali ma questo non me l'ho permesso ecco evitiamo querele non è per querele perché non so nessuno chi so io non so nessuno ma insomma c'è qualcuno che è più nessuno di me perfetto va bene allora io penso che con questa chiusa è perfetta ringraziamo Mauro Mellini ancora una volta e comunque ci sentiremo nuovamente per commentare se non altro insomma come sarà andata con questo referendum ma forse anche prima grazie ancora Mauro Mellini beh non aspetteremo no no infatti ci vedremo prima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti